Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben trovati a una nuova edizione del nostro telegiornale, lo avete visto e sentito dai titoli, pioggia di risorse per lavori e opere pubbliche ad Alghero, alcune particolarmente importanti. Il prossimo anno, il 2022, può essere un anno fondamentale per sbloccarne o completarne altre. Grazie a tutti. Una buona fetta arriva direttamente dall'avanzo di amministrazione, basti pensare al progetto di riqualificazione dell'ingresso alla città da via Vittorio Emanuele, che può contare su un finanziamento di oltre 800 mila euro, ma anche i 100 mila euro per il completamento del micronilo della pietraia e i 200 mila per il completamento dei lavori del palazzo comunale in via Colombano. La fetta più consistente tuttavia arriva dal Ministero dell'Interno, oltre 4 milioni per diversi interventi, dai lavori nella scuola elementare del Sacro Cuore, nella scuola media della pietraia, passando per la manutenzione straordinaria di argini e ponti presenti lungo i corsi d'acqua dell'agro, e poi il rifacimento della strada per Montagnese nel Salto di Don Peppino e ancora la manutenzione straordinaria di strade extraurbane. Ci sono poi, da non dimenticare, le risorse regionali, anche se cospicue, che arrivano soprattutto grazie alla legge Omnibus, dai 500 mila euro per il ripristino del verde pubblico e la realizzazione di aree verdi attrezzate nei quartieri di Taulere e Carmine, passando per il milione di euro per il completamento del Museo Casamanno e i 100 mila euro per i mercati civici. Inevitabilmente, però, parlando di opere pubbliche, ne vengono in mente tre in particolare. I prossimi due anni saranno decisivi per il loro completamento, a iniziare dall'ex cotonificio che l'impresa conta di consegnare entro il 2022. In occasione dell'ultimo sovralluogo, i consiglieri comunali della Commissione Lavori Pubblici hanno accertato come si stia rispettando il cronoprogramma, ma si sta procedendo decisi anche con la circonvallazione, opera particolarmente attesa dalla città che permetterebbe di decongestionare il traffico. In questo caso, però, bisognerà attendere il 2023, probabilmente l'autunno. Difficile, invece, azzardare una data per la piscina comunale coperta. In questo caso, il Comune poco può fare se non attendere la decisione del giudice in merito alla battaglia legale tra l'ente comunale e la ditta che si era giudicati ai lavori. L'auspicio, però, è che non si debbano aspettare tempi biblici. Incontro a Portaterra con i dirigenti scolastici delle scuole e istituti superiori cittadini per pianificare azioni concordi per affrontare criticità e tracciare un percorso di crescita e miglioramento delle prospettive per gli studenti. Il dimensionamento scolastico, innanzitutto, con una previsione per l'anno prossimo che migliora nettamente il trend di crescita delle iscrizioni nelle scuole medie di Santa Maria La Palma, che non giustifica alcune ipotesi di ridimensionamento. Inoltre, l'obiettivo del mantenimento dei livelli organizzativi nelle scuole medie superiori sul quale si sta lavorando. L'incontro di ieri con il sindaco Mario Conoci, l'assessore all'istruzione Maria Grazia Salaris e il dirigente del settore Alessandro Alciator e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e degli istituti superiori, Giovanni Ibba, Paola Masala, Vincenzo Scanu, Angelo Parodi, Maurizio Usai, è stato un confronto costruttivo che ha visto sul tavolo la volontà di lavorare in un'ottica di sistema, soprattutto per quanto riguarda il progetto complessivo di orientamento scolastico dei ragazzi delle medie e l'offerta formativa. Particolare attenzione, con le scuole superiori è stata data la modulazione di nuovi corsi di formazione, in grado di valorizzare indirizzi con sbocchi occupazionali concreti, tra i quali quello in procinto di iniziare le attività, il corso per tecnico superiore per la formazione tecnologica dell'infomobilità delle aree portuali dell'istituto superiori Rotti, i cui contenuti verranno esposti in una conferenza stampa in programma venerdì prossimo. Anche Alghero, con una propria rappresentanza, sta partecipando a Parma alla 38esima Assemblea Nazionale del Lanci, con il Presidente del Consiglio Comunale delle Salvatore, ci sono i consiglieri comunali Alberto Bamonti, Cristian Mula, Santonello Muroni, Mimmo Perisi e Vallo di Nolfo. Al centro del Summit di sindaci e amministratori locali, il futuro PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I lavori dell'Assemblea Prenaria si sono aperti ieri con un intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sferrato un duro attacco alle piazze Novax. Hanno provocato un pericoloso aumento del contagio, ha detto il Capo dello Stato. In queste ultime settimane manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far passare, come libera manifestazione del pensiero, l'attacco recato in alcune delle nostre città a libero svolgersi delle attività. Le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli. Dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo combattono. Ha aggiunto Mattarella, il cui intervento è stato accompagnato da una vera e propria standing ovation. Ospiti delle fiere di Parma in questi giorni, assieme a oltre 2.000 fra sindaci e presidenti di provincia, ben 11 ministri, un sottosegretario nella giornata conclusiva di domani, il premier Mario Draghi con il presidente della Camera, Roberto Fico. E a proposito di Covid, altri 40 casi di positività sono stati rilevati nell'ultimo bollettino in Sardegna. Non si sono registrati però ulteriori decessi. 2.422 le persone testate e 15.524 i tamponi molecolari e antigenici processati in totale. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, dato invariato rispetto alle 24 ore precedenti. In leggero aumento invece le persone ricoverate in area medica sono 52, 3 in più rispetto al precedente report. In isolamento domiciliare infine ci sono 1.493 persone. Ci fermiamo ora per un break pubblicitario, tra poco con la seconda parte. Proseguono gli appuntamenti dell'Università dell'Etreta di Alghero. Venerdì 12 novembre alle 16.30 presso la sede di via Sassari. La professoressa Nelia De Giovanni, saggista, biografa, critica letteraria, presidente dell'Associazione Internazionale Critici Letterari, editora, terrà l'interessante conferenza dal titolo. A 150 anni dalla nascita, Grazia è con noi. Nelia De Giovanni è considerata tra le massime esperte del premio Nobel Grazia De Ledda. Ha pubblicato oltre 40 volumi di saggistica e prosa letteraria, incentrati soprattutto su figure femminili, affermatisi nel campo della storia, dell'arte e della letteratura. Ediatrice del premio nazionale in Alghero Donna. Sono 14 inoltre i libri che Nelia De Giovanni ha scritto su Grazia De Ledda. La De Giovanni ha grandi meriti per come negli anni, con pubblicazioni ed eventi, ha contribuito a confermare il valore irrinunciabile della cultura. Torniamo a parlare oggi del Sicla Gaudì, la manifestazione che propone la proiezione di film catalani qui ad Alghero. Ieri la presentazione al Qualte, dove abbiamo realizzato alcune interviste. Cominciamo con Alessandra Sento, Irene Cogane, rispettivamente della società umanitaria e della Plataforma per la Liengua, partner dell'evento, insieme al comune di Alghero, la Generalitat, l'Accademia del Cinema Catala e la Fondazione Alghero. Un'altra offerta culturale della città di Alghero, che ovviamente fa cinema, coinvolgendo anche la lingua, che è il catalano. Sì, intanto va avanti una collaborazione stretta con la Generalitat di Catalogna sugli eventi culturali, con la Plataforma della Liengua. Questa volta riprende un'iniziativa, che era quella del Sicla Gaudì, che era stata interrotta per il Covid. Quindi teniamo ben stretti i rapporti con la Catalogna, con la Generalitat e diamo un'offerta culturale che negli anni scorsi purtroppo era mancata. Presidente De Lugo, la Fondazione Alghero è presente quando si tratta comunque di unire cultura e ovviamente portare avanti la lingua? Certo, siamo sempre pronti per tutte queste iniziative culturali. Tra l'altro la società umanitaria, che è partner di questo progetto, si è trasferita adesso a sede anche lei nei locali del Qualtè. Quindi questa è la prima iniziativa che nel dopo pandemia viene realizzata con la collaborazione dell'umanitaria. e quindi insomma è già un buon viattico per quello che sarà poi il 2022, dove speriamo si ritorni davvero alla completa normalità. Questi ovviamente erano il Sindaco Conoci e il Presidente della Fondazione Alghero Andrea De Lugo. Adesso invece sentiamo Alessandra Sento e Irene Coghene. Alessandra Sento, Irene Coghene e il Sicla Gaudì all'Alghè. Cominciamo con Alessandra, società umanitaria. Che cosa ci proporrete in questo 2021? Intanto lasciami dire che siamo molto contenti del fatto di proporre il Sicla Gaudì all'Alghè in una forma presenziale, perché dopo la pausa forzata dei quasi due anni di Covid con piattaforme streaming, forme miste, che sono state sicuramente positive come esperienze, perché ci hanno permesso anche di proporre questa attività ad un pubblico che andasse oltre i confini regionali. Però finalmente torniamo in sala, torniamo ad incontrare il pubblico e quindi di questo siamo molto contenti con una formula che è sempre la stessa. Quattro film assolutamente inediti in Italia. Il linguo originale sottotitolato per l'occasione da Emanuela Forgetta, che è una nostra storica collaboratrice, storica collaboratrice delle attività tra cinema e lingua. È un progetto di cooperazione culturale nel segno del cinema che serve a consolidare, a rafforzare i legami storici che ci legano alla Catalogna, che legano la città alla Catalogna. Quindi quattro film che un po' esplorano il mondo della nuova cinematografia catalana, che è una cinematografia molto giovane, molto dinamica, molto vitale. Quattro film appartenenti a generi molto diversi. Si parte con il 13, questo sabato 13, con la Vampira di Barcellona, che è una sorta di horror, una specie di favola gotica, per proseguire poi con il film Lo Frena, che invece è una sorta di dramma intimo, un dramma intimista. Poi La Donna Illegal, il 27, che tra l'altro si inserisce nelle celebrazioni del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E poi chiudiamo con un film generazionale, La Inocencia, di una regista esordiente che racconta i drammi e i turbamenti di una giovane donna che assomiglia molto al regista del film. Irene Coghen, esampuntanti, e anche se si parla in català, ma al cinema in català. Si, in ottenimento una produzione propria, esampuntanti che arrivi in ben quattro film, come ha detto Alessandra, Ineditas in Italia. Sono film che hanno partecipato al premio Gaudì, che sono i premio cinematografici dell'Accademia del Cinema català, che è un collaboratore del ciclo Gaudì e l'Algè. E del ciclo Gaudì, in tutta la Catalunia, arriva il ciclo a mezzo e senti i cittadini, e entri a chi cittadini e teniamo l'Algè. Inoltre, ci sono importanti che hanno un'offerta culturale a lingua, e che l'Use algerese si accostume sempre a me, e che hanno un'altra usazione della lingua, che si parla e raccoltiamo sempre a 10 milioni di cittadini europei. Nella sala Sari del Liceo Classico Linguistico Giuseppe Mano di Alghero si è svolta la scorsa settimana la cerimonia di consegna delle certificazioni di lingua inglese per l'anno scolastico 2020-2021. I corsi per le certificazioni linguistiche, uno dei punti di forza dell'offerta formativa dell'Istituto Fermi, sono organizzati e tenuti dai docenti del Liceo Manno, e offrono agli studenti dei cinque indirizzi liceali, scientifico, scienze umane, classico, linguistico e artistico dell'Istituto Fermi, la possibilità di prepararsi per gli esami del Cambridge Assessment English di livello B1 e B2. Ogni anno sono numerosi, gli allunni che partecipano con impegno e interesse ai corsi per il conseguimento delle certificazioni, valide presso tutte le università ai fini del riconoscimento dell'esame di lingua. Come ogni anno, gli allievi hanno ottenuto ottimi risultati, mostrando di aver conseguito capacità e competenze di alto livello. Anche nel corrente anno scolastico sono stati già attivati corsi di preparazione per le tre lingue inglese, francese e tedesco. Ora una finestra sullo sport, parliamo di rugby, la Amatori domenica ha fatto il suo esordio in casa davanti al pubblico amico di Maria Pia, la gara purtroppo è terminata con la larga vittoria da parte degli avversari del CUS Torino. Nonostante la pausa prevista dal calendario, la squadra allenata da Cipriani e Marchetto sarà impegnata in uno dei due recuperi, quello con il Parabiago. Ne abbiamo parlato proprio con i due tecnici, Cipriani e Marchetto, e con Michele Canulli, autore dell'unica meta di domenica. Parliamo di rugby, domenica c'è stato l'esordio in casa per l'Amatori Alghero, che a Genova ha vinto, invece all'esordio avete purtroppo perso. Parliamo della partita di ieri, però come è andata? Allora, purtroppo diciamo che abbiamo perso, però ogni partita è a sé, e noi la prendiamo come una lezione. Che cosa non ha funzionato? Che cosa non è andato bene? Il Torino è comunque una squadra abbastanza forte, ma l'Alghero? L'Alghero deve ancora crescere come squadra. Il Torino ci ha dato una lezione, ci ha dimostrato che sono una squadra concisa in quello che fanno. Noi dobbiamo ancora migliorare su piccole cose, i piccoli dettagli. All'altro coach invece chiediamo, rispetto alla preparazione fisica, come hai visto la squadra ieri? Fisicamente siamo stati molto preparati, in varie fasi di gioco abbiamo dimostrato di essere sicuramente a livello del Torino, che è la prima della classe. e purtroppo ieri è mancata molto la disciplina, che ci ha messo in difficoltà con una squadra così organizzata. Sicuramente per la prossima partita il punto chiave su cui andremo a lavorare tutta la settimana è il rispetto in campo dell'arbitro, perché bisogna giocare anche con lui, è fondamentale, e dovremo concedere meno penalità, perché a questo livello è fondamentale. Prostimi appuntamenti quindi? Settimana prossima giochiamo a Parabiago, un'altra buona squadra di livello, preparata fisicamente e anche tecnicamente. La prepariamo come abbiamo preparato le scorse partite, sempre lavorando duro, sodo e pensando al nostro lavoro. Michele, che cosa non ha funzionato nella gara di domenica? Sicuramente la disciplina è stata uno dei fattori penalizzanti, però comunque sia si è visto bene che questa squadra c'è un gruppo, c'è un forte gruppo, che sicuramente è una base dove possiamo costruire per il futuro una squadra competitiva. La SD Mercedes Basquett Alghero comunica che le atlete Tigliana Mitreva e Ivona Kosobajowska sono state convocate dalla Nazionale Macedone per le due partite che verranno disputate per la qualificazione ad Euro 2023. Le ragazze hanno raggiunto la Nazionale l'ottomattina e staranno a scopi e sino al 17 per poi fare il rientro in Italia per riprendere gli allenamenti con la Mercedes e con la Dinamo Sassari. La società Mercedes fa i complimenti e in bocca al lupo ovviamente alle sue giocatrici per le partite contro Germania e Bosnia-Herzegovina. Chiudiamo parlando del corso di assistenti e bagnanti organizzato dalla FIN, la Federazione Italiana Nuoto ad Alghero, Federazione Italiana Nuoto che è l'unico ente in Italia riconosciuto dalla International Life Saving, il brevetto rilasciato e valido in Europa e nel mondo, il corso a validità per l'arruolamento volontario nella Marina Militare, nell'Esercito e per l'attribuzione dei crediti formativi agli esami delle scuole superiori. Oltre al brevetto di assistente bagnante verrà rilasciato l'attestato esecutore BLSD e la certificazione in materia di primo soccorso aziendale. Si possono iscrivere persone di ambo i sessi dai 16 anni compiuti ai 65 anni da compiere. Le lezioni saranno ottenute esclusivamente da allenatori di nuoto e salvamento della FIN. È possibile iscriversi anche a corso inoltrato in base alle attitudini, recuperando le lezioni teorico-pratiche perse. Si organizzano inoltre anche corsi personalizzati in casi di necessità studio o lavoro. Per informazioni ci si può rivolgere al numero 329 077 4001 oppure si può scrivere un'email all'indirizzo lorenzo.zicconi-federnuoto.it Per oggi è tutto. Io come sempre vi lascio al meteo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie.